John Borno raga e benvenuto in questo video Oggi ci sto pur io che faccio i video sulla cavalla e bellissimo per video sulla cavalla che cantiamo alla cavalla Cantiamo Tra 3, 2, 1 cavalla, cavalla , cavalla dalla pire cavalla alla pire cavalla pire, è una assag자� alla gripe pu 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 A 5 like Le farò uscire la faccia Video programmatissimo